In compagnia di Graziano Beltrami, la punta del TSA, a conoscere un po' quello che sarà la vostra attività nel 2020. Di strada ne avete fatta tanta, nuovi marchi, nuovi prodotti e tanta innovazione nel vostro spirito. Sì, intanto grazie per il tempo che ci congedi. Noi in questa giornata presentiamo con il nostro house show 2019, presentiamo un nuovo catalogo, quindi il catalogo che ci porta con l'anno nuovo. Quindi presentiamo i prodotti 2020 e presentiamo anche nuovi marchi. Abbiamo inserito alcuni marchi in un nuovo catalogo e i manager di queste aziende sono qui per presentare direttamente ai nostri clienti i loro prodotti. Manager che vengono da tutto il mondo. Sì, qui abbiamo aziende e persone che vengono dall'Europa, quindi abbiamo Danimarca, Germania, Francia, Inghilterra, abbiamo Australia, quindi abbiamo coperto gran parte del mondo ciclistico. Forse hai dimenticato il Canada che non è una fetta poco significativa per voi. Sì, i canadesi sono di casa qui da noi, con Argon lavoriamo da 12 anni e Argon oggi ci dà l'opportunità di far vedere per la prima volta i bike road, quindi la bici elettrica da strada. Oggi è possibile qui da noi provarla, sarà disponibile sul mercato a primavera inoltrata, ma oggi abbiamo quindi la prima uscita su strada di questo prodotto molto importante, molto atteso dagli appassionati. In un mercato che definire è difficile, è un eufemismo, siete riusciti comunque nel 2019 a crescere di una quota significativa di mercato. Qual è stato il segreto di questo risultato operativo? Ma diciamo, innanzitutto cercare di un mix tra il nostro metodo di vendita tradizionale, quindi con gli agenti e con il nostro ufficio vendite, è un po' quello di andare a cercare il cliente sulla strada. Quindi noi facciamo molti eventi, facciamo manifestazioni in bici, partecipiamo al loro tour con il nostro stand, quindi siamo spesso a contatto con il cliente finale in modo da fargli vedere, fargli toccare i prodotti, perché oggi il cliente vuole toccare e vuole provare con mano il prodotto che andrà a acquistare. Diciamo che così coadiuvate il lavoro dei vostri rivenditori che sono poi il vostro core business. Assolutamente, per noi il rivenditore è l'interlocutore principale, tant'è che li devo anche ringraziare perché oggi con un weekend festivo abbiamo più di 150 negozianti qui da noi a vedere e a provare i prodotti. Un buon successo. Altra pagina, quella sportiva, sappiamo che tu sei un ex ciclista molto appassionato, che caldeggi l'investimento nei confronti dei giovani, sponsorizzate diverse squadre, non solo quella continental che è il vostro fiore all'occhiello, però siete molto vicini anche alle squadre giovanili. Questo è dettato dalla passione o porta anche qualche risultato economico? Ma è evidente che la passione è importante, d'altro canto il riuscire ad avere degli appoggi, dei contatti con diverse società che sono dislocate un po' in tutta Italia ci permette comunque di farci vedere, farci conoscere anche in località dove, caso mai non abbiamo il punto vendita o siamo un pochettino scoperti. Sicuramente la passione prima di tutto perché se alla fine facciamo i conti è evidente che il ritorno economico non è che sia così importante. Però noi crediamo che l'immagine oggi è importante e quindi continueremo, avremo sicuramente nuove squadre anche il prossimo anno. Quindi a beneficio delle squadre più piccole che magari stanno vedendo questa intervista, è importante veicolare il nome del loro sponsor anche a livello locale perché in un tempo medio sicuramente i risultati arrivano. Parlando di categorie giovanili naturalmente, diciamo Juniors che è quella più significativa, quanto tempo occorre per vedere qualche risultato per uno sponsor? Ma ti dico, è difficile quantificarlo, è difficile quantificarlo, noi abbiamo bisogno di anni e c'è bisogno di continuare a investire. Chiaro che degli interventi to court, to one shot non servono a niente, bisogna radicarsi nel territorio e sviluppare comunque delle strategie giuste con i personaggi giusti, con le società giuste. I nostri rapporti ormai sono rapporti quinquennali, noi con gli Juniors abbiamo l'Italia Nuova oppure abbiamo la Bigante con cui lavoriamo da quasi una decina d'anni, tanto per fare degli esempi. Quindi sono dei rapporti che vanno avanti perché entrambe le parti quindi trovano un giovamento per questo tipo di attività. Oggi è previsto anche una premiazione in collaborazione con il Bici e Beltrami TSA, premiate una serie di personaggi dallo staff della Nazionale per i brillantissimi risultati ottenuti quest'anno ad alcuni ragazzini fino agli esordienti. Come è nata questa idea? Beh diciamo l'idea nasce appunto per cercare di creare una giornata che non sia solo una giornata commerciale ma anche una giornata comunque di confronto sui risultati di fine stagione visto che siamo a novembre anche se il tempo sembra primaverile. Evidentemente noi cerchiamo comunque così come con i Continental di lavorare sui giovani. Anche in questa premiazione abbiamo cercato di andare a trovare quei ragazzi alcuni sono ragazzi che hanno fatto dei buoni risultati ma anche altri ragazzi che non hanno ottenuto dei risultati così eclatanti ma in base a quelle che sono comunque le informazioni che ci danno gli addetti ai lavori potranno diventare in futuro degli atleti di importanza direi nazionale. Se volete conoscere meglio questi ragazzi rimanete collegati con noi. Grazie per la visione!